È una giornata importante per noi perché abbiamo Italia 5 Stelle e oggi andremo al Circo Massimo e ci saranno due giorni importanti con i cittadini, con i nostri iscritti, con le persone che ci vogliono bene. Ovviamente oggi c'è un Consiglio dei Ministri, chiariremo la questione del condono e della pace fiscale, daremo due copie a Salvini così questa volta non si sbaglia, anche perché la si smettesse questa storia della panna montata, non la buttiamo in cacciara. Qui il tema è che il Consiglio dei Ministri, quell'articolo 9, lo sa il Presidente del Consiglio, lo sanno i ministri, quell'articolo 9 non è mai stato letto nel dettaglio ma sono stati annunciati i principi generali dell'accordo. Adesso, al di là di tutto, smettiamola. Io propongo di andare in Consiglio dei Ministri, togliamo di mezzo il condono per gli evasori, lasciamo la pace fiscale invece, così come è scritta nel contratto, per aiutare le persone, le grinfie di Equitalia, le persone in difficoltà e poi si va avanti anche perché siamo stati una testuggine e saremo una testuggine come governo. Mi fa piacere che la Lega non voglia il condono, questo li rende degli amici ritrovati e ripartiamo.